C'è ricorso a Napoli, al Consiglio di Stato e aspettiamo il parere del Consiglio di Stato. Anche questo è un problema di democrazia, secondo lei? Ma lì hanno escluso un tot di liste per ritardo di due minuti nella presentazione di alcuni documenti. Ecco, mi sembra che da parte di qualcuno ci sia la voglia di eliminare l'avversario, perché sono tutte liste a sostegno del candidato del centrodestra, però confidiamo nel ricorso al Consiglio di Stato.